Il Bastione Sangallo torna a nuova vita. Dopo alterne aperture e chiusure degli ultimi anni, ora un pool di associazioni e operatori con capofila la Enrico Travaglini gestirà per due anni il monumento storico, assicurandone la manutenzione e l'apertura al pubblico e facendone un contenitore culturale. Il Bastione Sangallo, oltre a essere un monumento storico nella sua vita, dopo essere stata una fortificazione militare e poi una polveriera, era diventato sede di un centro culturale ed è proprio questo aspetto che si vuole restituire alla città e ai suoi visitatori. Negli ultimi 30-40 anni ho contato almeno 3-4 inaugurazioni differenti, per cui periodicamente c'è una risistemazione e poi purtroppo. In questo caso qui abbiamo cercato di fare una domanda non individuale di un'associazione ma coinvolgendo tutta una serie di associazioni che da una parte garantisce una varietà di proposte dal punto di vista culturale, sociale, di iniziative eccetera. Dall'altro è una garanzia anche nei confronti della cittadinanza fanese che comunque una certa continuità potrà essere data all'utilizzo di questo bene monumentale. Naturalmente il Comune farà la sua parte perché la struttura necessita di un rifacimento dei tavolati linee e di riportare in uso irrigazione e impianto elettrico che nel tempo sono andati incontro ad usura e per assicurare anche standard di sicurezza ai fruitori degli spazi. Sostituiremo adesso entro Ferragosto, prima di Ferragosto, i tavolati linei delle piattaforme superiori in modo tale che la sicurezza sia garantita e poi procedere con le integrazioni dell'abbattimento barriere architettoniche e se possibile di concerto con la sua intendenza capire la possibilità di attuare almeno quelle uscite di sicurezza che garantirebbero una frizione maggiore rispetto all'agibilità minima.